Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Pericolo di inquinamento ambientale nel punto dove venerdì scorso si è rovesciato una cisterna contenente lattice e liquido Referendum per l'Unione dei Comuni Montemaggiore dice no e mette a rischio il progetto dei Colli al Metauro semaforo verde invece per terre roverische Ritrovato infreddolito ma in buona salute l'anziano ottantenne scomparso da ieri sera a Mondolfo Inaugurato il passaggio sulla Darsena Borghese è uno dei punti più suggestivi della città che collega il centro storico con il mare Ecco la Superluna vista dal porto di Fanno Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale sul canale 17 l'informazione di Fanno TV Venerdì scorso vi abbiamo mostrato nel telegiornale le immagini dall'autostrada 14 di quel camion cisterna che trasportava lattice e liquido rovesciato su un fianco Ebbene tutto il materiale lattice e liquido che trasportava in parte si è riversato nei campi circostanti e adesso c'è un serio pericolo di inquinamento ambientale Oggi è andato per noi a vedere la situazione Dino Balestra E' bianco color latte il laghetto di Valentini a Sant'Andrea in Villis ma sarebbe meglio dire color lattice a ridurlo così è stato il lattice liquido fuoriuscito dalla cisterna che lo trasportava e che si è ribaltata in autostrada nella corsia sud appena fuori la galleria di Novilara tra Pesero e Fanno giovedì pomeriggio Ma come ci è finito nell'acqua il lattice? Oltre al laghetto anche i fossi circostanti il luogo dell'incidente ed addirittura due pozzi artesiani che servivano ai contadini del luogo per animali e campagna sono stati contaminati dalla sostanza chimica Sono passate da poco alle 13 di giovedì quando un'autocisterna proveniente dal nord sbanda sfonda il guardrail e si ribalta nella scarpata Nella cisterna per l'urto si crea una falla dalla quale inizia a fuoriuscire la sostanza lattiginosa che impregna rapidamente il terreno circostante scatta l'allarme ma fino al tardo pomeriggio non si riesce a travasare il liquido dalla cisterna l'area è bonificata ma i danni ambientali ci sono i proprietari dei terreni circostanti attivano Arpam e Asur i fossi e le acque dei pozzi sono bianchi e le piogge dei giorni successivi ha fatto sì che il terreno inzuppato della sostanza lo ricacciasse fuori e qui tutto attorno è tutto bianco è tutto bianco fino a Fenile se andate a vedere ieri mattina o l'altra mattina era già arrivata a Fenile cioè c'è il fosso che va giù c'è il lago qui di Valentini che è pieno è bianco tutto bianco tutto bianco Arpam ha effettuato prelievi di terreno ed acque sia venerdì mattina che oggi l'indagine è al momento nel vivo nel frattempo che arrivino però gli esiti degli esami il comune di Fano sabato mattina ha emesso l'ordinanza di divieto di prelievo delle acque dai pozzi per uso umano fino a nuova disposizione ma i residenti sono allarmati e preoccupati perché oltre che vivere una condizione di disagio non sanno come abbeverare gli animali e irrigare il terreno ci sono le abitazioni che hanno adoperano quest'acqua non avendo l'acqua comunale la casa qui adopera l'acqua del pozzo perché i pozzi sono tutti pieni di questo lattice sono bianchi tutti pieni non possiamo adoperarla loro hanno detto di non adoperarla l'Asor ci ha detto di non adoperare i pozzi il comune so che ha fatto un'ordinanza sabato però noi siamo è un grosso disagio per noi perché sinceramente come si fa voi qui avete attività agricole avete animali io ho animali qui ho gli animali ho i cani ho i polli queste cose qua l'orto adesso l'acqua non serve però ve la portate da casa per forza gli animali non posso lasciarli senza acqua quindi voi chiedete che si ripristini quanto prima questa situazione certo ritrovato infreddolito ma in buona salute l'ottantenne è scomparso da ieri sera a Mondolfo si era allontanato da casa nella giornata appunto di ieri senza lasciare traccia malato di Alzheimer da tempo è stato ritrovato in un isolotto al centro del fiume Cesano a metà strada tra i comuni di Fano e Senigallia l'anziano ha perso l'orientamento e senso del tempo ai soccoratori dei Vigili del Fuoco che lo hanno ritrovato questa mattina intorno alle 11.30 non ha saputo spiegare né come fosse finito lì né come avesse trascorso la nottata ma è riuscito a dire solamente che era alla ricerca di erbe le ricerche dell'ottantenne erano state avviate dai carabinieri nella serata di ieri dopo che alle 20.30 i familiari non lo avevano più visto rincasare l'anziano è stato trovato in buono stato di salute come dicevamo e di ottimo umore anzi avrebbe chiesto a chi lo ha trovato come mai lo stessero cercando una storia dunque a lieto fine ma è bene ricordare come tra l'altro suggeriscono le stesse forze dell'ordine che in casi come questi è fondamentale allertare i soccorsi immediatamente senza perdere tempo prezioso in ricerche personali soprattutto perché con il buio e il freddo non si scherza lasciamo la cronaca adesso parliamo del referendum che si è tenuto in sette comuni della provincia di Pesaro e Urbino gli abitanti di Montemaggiore al Metauro hanno detto no alla nascita di un nuovo comune insieme a Saltare e Serrungarina semaforo verde invece per gli altri quattro comuni che daranno vita a terre roveresche domenica diurni aperte nei sette comuni dell'entroterra per la consultazione referendaria in merito alle fusioni tra comuni per dar vita a due nuove realtà Colli al Metauro Montemaggiore Serrungarina e Saltara e terre roveresche Barchi Orciano Piagge e San Giorgio in tutto 14.481 a 20 diritto dovevano mettere una crocetta o sul sì o sul no in sei comuni si è ampiamente affermato il sì in uno invece ha stravinto il fronte del no a Montemaggiore mettendo così seriamente in forse la fusione e dove è andato a votare il 63% degli aventi diritto quasi 1500 persone con una percentuale per il no del 63,44% e un 36,56% per il sì a Saltara dove ha vinto invece di netto il sì poco meno della metà delle persone è andata a votare 44,15% per il sì hanno votato il 70% delle persone per il no il 30% a Serrungarina terzo comune di Colli al Metauro vittoria di sì di misura con il 53,5% mentre il no è un 46,5% adesso la situazione è abbastanza complicata perché ovviamente io non me la sento di dire alla regione di andare avanti e di proseguire anche se poi spetterà l'ultima parola appunto alla regione stessa che dovrà valutare la situazione nel complesso perché su tre comuni Saltara e Solungarina il voto è passato per il sì Saltara con una larga maggioranza il complesso dei votanti è favorevole alla fusione quindi l'intento generale è quello di andare avanti su questo processo qui a Montemaggiore invece questo no anche di larga misura ci deve far riflettere e deve farci prendere una decisione che adesso insieme all'amministrazione dovremmo ponderare bene e valutare il da farsi Lei si incontrerà con i suoi colleghi gli altri sindaci quali sono le considerazioni che farete? Non lo so infatti ci dobbiamo incontrare e valutarle assieme per decidere dare anche una linea alla regione Tutto più semplice per terre roveresche futura fusione tra Barchi Piaggia Orciano e San Giorgio dove 1659 cittadini hanno detto sì mentre solo 525 hanno messo la crocetta sul no con percentuali schiaccianti che non lasciano alcun dubbio a riguardo a Barchi 83,3% è per il sì e un 16,7% per il no a Orciano ha detto sì l'82,6% contro il 17,4% del no a Piagge il 63,6% vuole la fusione mentre il 36,4% non la vuole infine infine a San Giorgio sul sì hanno messo una crocetta il 72,9% dei votanti lasciando al no solo un 17% torniamo a Fano torniamo a Fano adesso è stato riaperto il passaggio sulla Darsena Borghese che collega il centro storico con il Lido di Fano e sabato mattina c'è stata nonostante il cattivo tempo l'inaugurazione è senza dubbio uno dei punti più suggestivi di Fano lo splendido belvedere della Darsena Borghese che si affaccia sul seicentesco porto di Fano unito al fatto che essendo praticamente all'ingresso della città a ridosso della nazionale è anche un biglietto da visita per chi transita qui e non ultimo il suo passaggio pedonale unisce due porzioni di Fano di grande vivacità il Lido con il centro storico sabato mattina questo suggestivo scorcio di Fano che versava da tempo in un pessimo stato dopo un restauro di alcuni mesi e 110 mila euro di investimento è stato restituito alla città con buona pace di quanti non si rassegnavano correndo non pochi rischi a doverlo bypassare per raggiungere il cuore della città questa è la Darsena Borghese è una terrazza che onestamente quando mi sono insediato come sindaco era inguardabile e mi ero preso un impegno che è stato mantenuto prima togliendo le vele ringraziando anche al privato e abbiamo dato un nuovo volto dignitoso alla terrazza grazie anche ai marinai d'Italia la città di marina d'Italia la Darsena è tenuta in modo straordinario è bellissimo è anche semplicemente un bel vedere è un luogo che andrà ancora più valorizzato anche nel percorso che fiancheggia il canale è un grandissimo orgoglio oggi riaprire al pubblico il bel vedere della Darsena Borghese che è appunto il punto di congiunzione tra la storia della città di Fano quella rinascimentale quella romana con il mare e quindi il porto per quanto riguarda le attività del porto importantissime ma anche per il turismo perché ovviamente ora il mare si è trasformato anche in qualcosa di diverso allora in questa città in questo punto di congiunzione tra la città vecchia e il mare ovviamente avere un bel vedere rimesso a posto è sicuramente motivo di orgoglio ovviamente noi ci siamo limitati a fare degli interventi di restauro conservativo presso la terrazza e abbiamo cambiato la pavimentazione che come certamente tutti i cittadini fanesi ricorderanno era in uno stato pietoso abbiamo consolidato anche diciamo proprio la muratura perché negli anni era diventata anche un motivo di scarsa sicurezza c'erano dei tavoloni e quindi siamo intervenuti riportandola a nuovo gli assessori alla mobilità di oltre 15 città di tutta Italia si sono incontrati a Rimini alla ventesima edizione di Ecomondo la fiera degli stili di vita sostenibili per rafforzare il club delle città Trenta e Lode presente l'incontro anche il ministro all'ambiente Gianluca Galletti che ha promesso nuovi finanziamenti per la mobilità sostenibile in ambito cittadino per il comune di Fano hanno partecipato l'assessore dei lavori pubblici Cristian Fanesi gli architetti Paola Stolfa e Fabiola Tonelli le marche sono belle e sicure la campagna di comunicazione lanciata dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci per far capire ai turisti che se vogliono essere solidali con la regione e le sue aree colpite dal terremoto devono fare il gesto più bello e concreto ovvero visitarle Ricci dice di aver parlato con il premier Matteo Renzi e con il ministro Dario Franceschini e lancia un appello anche all'amico Vittorio Sgarbi che potrebbe dare un grande contributo alla causa il concetto è che il terremoto è stato drammatico ma le marche si stanno già rialzando e ce la faranno si è conclusa domenica scorsa la quarantesima edizione a cartoceto della mostra Mercato dell'Olio il festival dell'olio e dell'oliva la formula la formula del contenitore culturale ed artistico scelta dall'amministrazione cartocetana per rivitalizzare la mostra mercato dell'olio e dell'oliva sta regalando grandi soddisfazioni ai suoi ideatori e organizzatori in un momento come questo in cui le produzioni dell'olio d'oliva sono drasticamente crollate in pochi avrebbero frequentato la piazza di cartoceto per visitare gli stand dei produttori né tantomeno avrebbero affrontato lunghi viaggi invece con la rassegna Jets & Wine nello splendido e restaurato Teatro del Trionfo che ha portato musicisti di fama internazionale come Peppe Servillo e Mario Venuti poi sabato scorso uniti alle degustazioni guidate dei sommelier sono arrivati a cartoceto migliaia di persone diverse centinaia delle quali provenienti da tutta Italia appositamente per gli eventi e gioco forza passato piacevoli ore tra i vicoli della città e fatto acquisti negli stand della piazza un modo per acquisire visibilità e dare spessore culturale a quella che sarebbe diventata ben presto una qualunque ed anonima mostra a mercato come tante invece ora cresce di edizione in edizione annata buona o no l'oro verde soprattutto se cartoceto o dop rappresenta il legame universale della manifestazione con grande gioia e stimolo per i produttori a frequentarla sempre e comunque qualunque cosa accada il successo devo dire è anche oltre l'attesa perché in queste tre edizioni in modo particolare quest'anno soprattutto con i quattro concerti al teatro del trionfo ha potuto contare sulla partecipazione di visitatori e turisti da ogni parte d'Italia questa cosa ci fa veramente piacere perché ci consente di valorizzare e promuovere a tutto tondo il territorio da un lato e al tempo stesso anche far conoscere oltre confine l'unica dopo le aria della regione Marche una dopo le aria per la quale a breve si presenteranno innanzi due nuove sfide molto importanti la prima quella dell'allargamento dell'areale areale della DOP Cartoceto che ad oggi ricomprende oltre il comune di Cartoceto anche i territori di Fano di Monbaroccio di Saltara e di Serrungarina la seconda sfida anzi oserei dire il secondo progetto ambizioso che la DOP Cartoceto è quella di creare esattamente poco distante dove siamo in questo momento cioè da Palazzo Marcolin della sede municipale un giardino delle olive dell'arte che darà luce e risalto sia all'eccellenza agroalimentare l'olio DOP Cartoceto ma al tempo stesso anche a quelle che sono le opere d'arte e i migliori artisti che il territorio della regione Marche e quindi non soltanto di Cartoceto può e potrà offrire Nardo Filippetti fondatore di Eden Viaggi e presidente della Stoi Confindustria Viaggi ha ricevuto all'Università di Urbino una laurea magistrale onoris causa in marketing e comunicazione per le aziende nel Dipartimento di Economia il patron di Eden Viaggi ha ripercorso le principali tappe di una carriera di successo cominciata da zero a 14 anni lasciò Pesaro per andare a lavorare in un hotel a 5 stelle in Germania con 50 mila lire in tasca oggi gestisce un gruppo con 500 dipendenti e 48 strutture alberghiere sparse nel mondo e adesso parliamo di sport c'è Matteo Del Vecchio della redazione sportiva grazie Marco come di consueto la copertina è dedicata al campionato di Lega Pro di calcio e all'Alma Juventus che sabato sbancando il campo del Mantova è uscita dalla zona play out dopo il forlì di Gadda anche il Mantova di mister Prina Sinchina Alfano che centra la seconda vittoria consecutiva la prima in trasferta e si lascia alle spalle in classifica a ben 7 squadre una vittoria che vale doppio perché ottenuta contro una diretta concorrente per la salvezza e che porta alla luce un Fano Gagliardo capace di soffrire e affondare poi il colpo vincente all'83esimo con l'ex di turno Masini che realizza un calcio di rigore assegnato per fallo di Carini su Gucci prima del penalty vincente padroni di casa pericolosi con Di Sant'Antonio e Bandini ben neutralizzati guardia Granata chiamato agli straordinari in più di un'occasione anche il portiere locale Maniero impegnato da Cazzola Gabbianelli e Gucci prima di capitolare a fine match sul piazzato di Masini una vittoria importante che fa salire l'Alma Juventus Fano in 14esima posizione a più due dalla zona play out e che permette ai ragazzi di Cusatis di affrontare un po' più serenamente la sfida di sabato quando al Mancini arriverà il Gubbio in cima alla classifica continua il testa testa tra le grandi di questo campionato Bassano Venezia e Parma che si dividono le prime tre posizioni della classifica weekend a dimenticare invece per le squadre locali impegnate nei campionati nazionali di calcio a 5 l'unico mezzo sorriso è quello dell'Alma Juventus che pareggia 4 a 4 in casa contro il Tenax Castelfidardo terza forza del campionato è andata peggio all'età beta che in trasferta contro la corazzata Montesilvano perde 5 a 1 e complice alla vittoria dell'ex fanalino di coda macerata torna all'ultimo posto in classifica perde anche il buldo Glucrezia del tecnico fanese Elia Renzoni che cade in casa 6 a 1 per mano del Torre Savio Cesena e resta metà classifica quota 8 distanziato di due lunghezze dagli All Blacks di Mr. Ferri K.O. anche per il Flaminia nel campionato di Serie A femminile dopo 5 vittorie consecutive per le ragazze di Alessandri Imbriani ieri è arrivata la prima sconfitta stagionale ad opera del Maracanà Dream Fuzzal di Morrovalle dell'ex direttore generale Emanuele Valli che al circolo tennis trave si è imposto per 1 a 0 e purtroppo non ci sono buone notizie nemmeno per quanto riguarda le squadre locali impegnate nei campionati di Serie C di volley perde in casa 3 a 2 contro la nuova volley la Virtus Fano nel campionato maschile mentre in campo femminile la Pavlucrezia rimedia un secco 3 a 0 interno contro il Castelbellino che tra le proprie fila poteva contare sull'ex Sofia Giombetti chiudiamo ora lo spazio dedicato ai risultati agonistici e passiamo agli eventi perché sabato il comune di Fano ha voluto premiare quegli atleti fanesi che si sono distinti durante l'arco della stagione nei cosiddetti sport minori riconoscimenti sono andati a Daniela Romiti campionessa d'Italia in carica del circuito BTF campionato nazionale femminile di biliardo specialità stecca a Davide Alessandrini che ha partecipato ai campionati italiani di beach volley sfidando le coppie più forti della penisola e ai baby campioni Elisa Fuligna e Riccardo Biagioli astri nascenti del beach tennis che l'anno scorso a Mosca si sono laureati campioni del mondo under 14 e come è successo la settimana scorsa quando vi abbiamo parlato del foot golf anche la rubrica di questa settimana si chiude mostrandovi le immagini di una nuova disciplina sportiva si chiama city tennis si è affacciato dalle nostre parti nell'estate 2015 e giorno dopo giorno sta vedendo crescere il numero di appassionati disciplina di stampo tennistico il city tennis è un mix tra ping pong bistennis paddle e ovviamente tennis particolarità di questo sport che lo rende unico nel suo genere il fatto che si può giocare anche due contro uno per saperne di più e per conoscere i centri in cui è possibile praticare questa disciplina è possibile consultare il sito www.citytennisproject.com e con il city tennis si chiude la pagina sportiva di questa sera vi ringraziamo perché come sempre siete in tanti di inviarci le segnalazioni all'indirizzo sport chiocciolafanotv.it continuate a farlo per questa sera non ci sono altre notizie da parte mia e dalla redazione sportiva l'augurio a tutti voi di una buona serata e adesso andiamo subito a vedere la superluna con questa immagine scattata da Giancarlo Dana sul faro del molo di Levante al porto di Fano come una star la superluna si è concessa solo per pochi minuti per poi scomparire dietro le nuvole non la si vedeva così da 68 anni precisamente dal 26 gennaio del 1948 la prossima volta sarà fra 18 anni il 25 novembre del 2034 quando sarà di nuovo luna piena a soli 10 minuti dopo il passaggio alla distanza minima con la terra ed è tutto il giornale finisce qui grazie per averci seguito buona serata a luna piena a